Come si crea l'effetto bombatura ovvero l'effetto bombato del nostro plum cake? Beh in questo video molto semplice, rapido ed efficace voglio spiegarti rapidamente ma efficacemente quello che è il metodo per poter riuscire a creare un effetto bombato del tuo plum cake quindi non voglio parlare, non voglio spiegarti troppe cose ma voglio farti veramente avere quella scintilla in più che ti permetterà di avere un risultato migliore dei tuoi plum cake nel finale quindi andiamo a vedere come si fa Come prima cosa andremo a realizzare quello che è l'impasto, un impasto veramente basilare utilizzando un metodo a foglia dove andremo a lavorare quello che è il grasso in questo caso che è il burro con tutti gli altri ingredienti lavorandoli con la foglia quindi andremo a realizzare una preparazione molto basilare che ci servirà per creare un esempio di bombatura utilizzando uno stampo a cassetta dove inseriremo quello che è il quantitativo e l'impasto ricoperto dalla carta da forno che va a creare poi una separazione durante la cottura andremo ad utilizzare due preparazioni per creare la bombatura una è la glassa neutra come quella che vedi utilizzandola con il connetto di carta da forno oppure possiamo utilizzare quello che è il burro cremoso mi raccomando deve essere cremoso che inseriremo anche questo all'interno di un connetto di carta da forno che utilizzeremo proprio come stai vedendo adesso dopodiché noi per creare l'effetto a bombatura per questa tipologia di plum cake andremo ad utilizzare quella che è la glassa neutra inserendola al centro e dopodiché vediamo anche lo sviluppo in forno in questo momento noi vediamo che tutta l'acqua tutta l'evaporazione e il lievito che è presente all'interno del nostro plum cake va a creare lo sfogo creando poi una diciamo una spaccatura centrale che permetterà poi di far sviluppare in questa maniera qui creando un effetto bombato del nostro plum cake veramente fantastico creandogli poi un effetto molto voluminoso invitante preciso e perfetto qui la cottura è stata fatta a 165 gradi per 700 grammi di impasto per 40 minuti e questo qui poi è il risultato nel finale che è abbastanza caldo come vediamo ha un bell'aspetto molto voluminoso una bellissima bombatura che è molto interessante nel momento in cui poi la andiamo a tagliare avendo poi una fetta molto alta, precisa e invitante questo qui è un appuntamento molto semplice che va e ha l'obiettivo di condividerti quelli che sono dei consigli delle tips che possono esserti utili per dare un effetto diverso a quelli che sono i tuoi plum cake ad esempio avendo un risultato bombato che ti consiglio di utilizzare scegli tu se il burro oppure la gelatina la glassa neutra più che altro per riuscire a realizzare questo effetto qui se ti è stato utile mi raccomando lascia un like lascia un commento se magari hai delle domande o dubbi in merito a questo argomento e se vuoi migliorare le tue competenze giù in descrizione troverai il link per accedere a quello che è il percorso di Cake Master dove potrai avere diversi contenuti utili in merito a questo argomento ti aspetto lì ciao